Ciao ragazzi bentornati sul canale, ieri abbiamo assistito alla prima stream di presentazione di Into the Light dove i devs di Bungie hanno presentato la nuova modalità che arriverà con questo aggiornamento in questo video andremo a vedere tutto quello che riguarda appunto la nuova modalità, come funziona le ricompense in realtà ne parleremo un po' più avanti e in più anche qualche piccola news, quindi iniziamo Prima di iniziare ne approfitto come sempre per ringraziare tutti quelli di voi che hanno deciso di seguire la live con la nostra community perché come al solito eravamo tantissimi, per quelli di voi che ancora non lo sanno vi ricordo che in descrizione trovate il link al canale Twitch dove potete trovarmi live tutti i giorni dalle 15 in poi Detto questo iniziamo con una piccola news sugli emblemi, perché ieri durante la stream di Bungie c'era il drop di Twitch per i due emblemi esclusivi di queste live a tema Into the Light, ma Bungie ha sbagliato i tempi dei drop quindi il primo che doveva essere droppato dopo mezz'ora in realtà aveva bisogno di un'ora però la stream ovviamente è durata di meno e quindi apri di cielo tutti senza emblema per risolvere questo problema nelle prossime due stream Bungie lascerà la stream accesa per un'ora in più dopo la fine della stream questo per far recuperare il tempo a tutti appunto di prendere l'emblema vi ricordo che le prossime due stream saranno i prossimi due martedì alle 18 messo questo da parte parliamo di Into the Light sarà un aggiornamento gratuito disponibile per tutti e che arriverà il 9 di aprile sarà un contenuto ponte che ci traghetterà verso The Final Shape, il DLC in arrivo a giugno la storia sarà incentrata sul testimone che cercherà di ostacolarci con la sua flotta che sarà alle porte dell'ultima città ovviamente scopriremo di più sulla storia quando saremo a tu per tu con Into the Light quindi questi sono piccoli brandelli che ci hanno detto soltanto gli sviluppatori il nostro NPC di riferimento sarà Shaxx che starà accanto a noi a combattere contro alveare e caduti e sembrerebbe però che nei corrotti saranno lì alla finestra e che avranno a quanto pare un altro ruolo che ancora però non conosciamo la modalità si chiamerà Assalto o Assalto Furioso, non sappiamo ancora come verrà tradotto in italiano e sarà una modalità Orda con un pizzico di Tower Defense sarà una modalità di difesa, letteralmente di difesa nell'ultima città e avrà diverse location quella che ci hanno fatto vedere è una mappa reworkata dell'ultima città, la mappa del PvP modificata con le piramidi che hanno cominciato letteralmente a terraformare la nostra città le altre location dove combatteremo ancora non le conosciamo ma conoscendo Bungie e vedendo appunto quest'ultima secondo me saranno altre mappe che già conosciamo magari parte di Assalti oppure di zone pubbliche, non so, vedremo la modalità sarà adondate per la precisione 50 con 3 livelli di difficoltà ci sarà una modalità playlist con una difficoltà più bassa con il matchmaking che servirà come entry level ma sarà cappata ad un massimo di 20 o 30 ondate la seconda sarà la modalità normale, anche questa con matchmaking in teoria, così hanno detto che però arriverà fino a 50, quindi tutte 50 le ondate con difficoltà crescente e con la possibilità di prendere una doppia ricompensa se si arriva alla fine in più ci sarà una modalità leggenda che a quanto pare, addetta dalle sviluppatori avrà una difficoltà simile a quella degli attuali GM in termini di luce e dove ci sarà anche la meccanica di wipe se tutti i membri della squadra dovessero morire in più ci sarà una modalità leggenda che a quanto detto dagli sviluppatori avrà una difficoltà simile a quella degli attuali GM sia in termini di luce sia in termini di densità dei nemici e dove ci sarà anche la meccanica di wipe se tutta la squadra dovesse morire ah, parentesi, la squadra sarà composta da 3 giocatori qui le ricompense saranno maggiori e in più ci saranno maggiori ricompense ad ogni step quindi non soltanto alla fine e appunto per riprendere un po' il discorso generale delle ricompense le ricompense saranno anche intermedie cioè ogni 10 ondate avremo la possibilità di entrare dentro le piramidi e distruggere i boss di quell'ondata che ogni volta saranno diversi e ogni volta ci ricompenseranno con una cassa come funziona però l'attività in sé? come funziona però l'attività in sé? avremo un obiettivo da difendere con la possibilità di ricaricarlo perché la nostra base subirà dei danni se i nemici riescono ad entrare nel cerchio di difesa i nemici ogni tanto faranno cadere delle cariche letteralmente le classiche palline che conosciamo benissimo su Destiny che serviranno proprio per ricaricare la base tirandogliela addosso esattamente come siamo abituati a fare dai tempi delle forge quindi insomma qui niente di nuovo le ondate diventeranno ovviamente sempre più impegnative andando avanti con il numero sia in termini di luce che di quantità di nemici e ci saranno anche delle ondate a tema diciamo così in stream per esempio hanno fatto vedere che con l'alveare potranno arrivare ondate solo di orchi oppure solo di schiavi esplosive insomma robe così durante queste ondate ovviamente ci saranno anche boss e mini boss che vi daranno fastidio così come anche campioni che ovviamente aumenteranno sia con l'aumento delle ondate sia con l'aumento di difficoltà soprattutto nella difficoltà GM diciamo così quindi questa cosa qui dei campioni sarà da tenere a mente perché prima di entrare in un'attività con i campioni sapete benissimo insomma che dobbiamo vestirci a modo soprattutto parentesi se ci sono gli orchi inarrestabili in spazi così stretti che io vi ho avvertito poi vedremo ogni 5 ondate avremo la possibilità di fare un piccolo intermezzo diciamo così all'interno della piramide che ci permetterà di togliere lo scudo al boss che poi combatteremo nello step invece da moltiplici di 10 quindi faccio un esempio all'ondata 5 entreremo e daremo appunto questo questa occhiataccia al boss per poi rientrarci nell'ondata numero 10 e così via la 15 la 20 eccetera eccetera un'altra meccanica che ci sarà ovviamente sarà quella del tower defense e il nostro miglior amico saranno gli scarti i nemici dopo ogni kill ci daranno degli scarti che sarà letteralmente la valuta che potremo utilizzare proprio durante la modalità questi scarti potranno essere usati per attivare e potenziare la nostra parte di difesa ci saranno 3 gadget principali che potremo attivare torrette difensive, mine ed esche questi 3 oggetti potranno essere attivati da un costo di scarti e potranno essere potenziati di mano a mano quindi potremo decidere magari durante le nostre run di attivare per esempio solo le torrette e potenziare solo quelle senza andare ad attivare le mine oppure le esche oppure di attivarli tutti e magari potenziarli di meno insomma ci potranno essere diverse strategie sarà poi scelta nostra e del nostro team appunto capire quali saranno gli stratagemmi più utili ma questo ovviamente lo capiremo solo una volta che avremo cominciato a giocarla anche durante la boss fight dopo 10 ondate ci saranno meccaniche che potremo sfruttare per fare più danno ai boss come attivare torrette, attivare un buff per fare più danno ai boss con le armi oppure una scintilla che toglierà un pezzo di vita intero al boss quindi ci sarà anche questa meccanica tornati nell'arena la base si sposterà e dovremo ricominciare da capo attenzione però perché i gadget delle ondate precedenti rimarranno attivi e quindi vi aiuteranno anche dall'altra parte della mappa mano a mano che andrete avanti con le ondate quindi vi potrebbe capitare tranquillamente di tornare in un punto che avete già fatto e trovarvi già le torrette per esempio potenziate a livello 2 e quindi potete ricominciare da quel punto durante le ondate più alte avremo a che fare anche con obiettivi secondari come distruggere le trappole dell'oscurità oppure catturare delle zone queste ci devieranno dall'obiettivo principale che è sempre quello appunto di difendere la nostra base e dovremo avere un po' di coordinazione con il nostro team per mantenere la difesa ma nello stesso tempo fare gli obiettivi secondari quindi ovviamente i mob continueranno ad entrare nella nostra base quindi dovremmo tra virgolette cercare di dividerci un po' i compiti purtroppo non ci hanno fatto vedere tutte le ricompense ma soltanto due il primo è il canone portatile colpo di mezzanotte famosissimo canone portatile anno 1 di Kalos che insomma io personalmente ho amato tantissimo che avevamo tra l'altro già ad occhiato nell'immagine di presentazione quindi non è un reskin e non è un'altra arma ma è proprio quella ovviamente senza sapere e conoscere i perk in più si è intravisto anche un nuovo giustizia negata il che personalmente lo trovo un po' strano visto che è l'arma di cala la notte quindi bisognerà capire cosa ha in mente Bungie con quest'arma ad ogni modo nella stream di martedì prossimo Bungie ci parlerà delle ricompense quindi l'hanno fatto apposta a non farci vedere niente perché sarà appunto il focus della prossima stream quindi cosa dropperemo, che perk avranno, come si prenderanno e quali armi ci saranno lo sapremo martedì prossimo in più si è parlato anche di una nuova zona social quindi una zona simil torre diciamo così che in tanti hanno identificato come la vecchia torre di Destiny 1 che come sappiamo è sempre stato il sogno diciamo così di tornare lì che per quanto mi riguarda potrebbe essere una gran figata però sempre per quanto mi riguarda sarebbe più figo se la nuova torre rimpiazzasse direttamente quella vecchia cioè o meglio la vecchia torre di Destiny 1 rimpiazzasse quella nuova di Destiny 2 e non raddoppiare tra virgolette le zone dove possiamo atterrare e appunto incontrarci con i nostri team secondo me sarà una zona social magari in città magari temporanea e che magari con The Final Shape andrà via non lo so però tra sette giorni lo scopriremo e vediamo un po' che si sono inventati appunto martedì prossimo però per il momento questo è tutto quello che sappiamo di Into The Light dopo la prima stream di presentazione e a noi non resta che aspettare la prossima settimana per scoprire appunto altri dettagli nel frattempo qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate voi cosa ve ne pare di questa modalità se vi può piacere oppure no e se secondo voi arriverà la vecchia torre oppure no io come sempre vi ringrazio di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo alla prossima